Ciao Chiara, siccome partirei per dieci mesi noi ti vogliamo salutare perché ti mancherei tanto e allora tutti quanti... un attimo, allora mi sto disturbando, come sempre tutti quanti e allora ti abbiamo fatto un piccolo saluto Noi piangeremo tutti i giorni perché tu non sarei più con noi Ciao Chiara, ciao Chiara, ci mancherai Ciao Chiara, ti sto maledicendo perché vai in crucchi a mangiare calati e patate Ci mancherai, scuola un telefono Ciao Chiara, buon viaggio Ok, ma stavi riprendendo prima? No Adesso stai riprendendo? Sì Vabbè ciao Chiara, buon viaggio Ora devo vedere un'altra casa Mi chiamo Laura Ma mi chiamo Laura Devo tagliare i link Mentre ho fatto i video Siete lì perché si cappotta Hai preso la mia macchina, la mia scheda? Sì, ma non fa niente Sì, ma sto facendo un video random Sara, hai preso la mia scheda Ok, mi stai riprendendo? Ma c'è il puntino che fa con il po' di ritardo No, è fisso il puntino Il mio? È 19, 10 Oddio, me ne va Allora, tanti auguri Fate un augurio molto avanti Auguri Ok, vado Vado? Dai Vai, vai, vai Già No Non posso un'altra Mi ricordi? Ora sembra che stai avendo un orgasmo Sara No, no, non mi riprendi No, no, per favore C'è una lata Sara, pezzi moderati Mi prego No, sta cosa che ho fatto Mi muove te Bonissimo E non accade, veramente E non è che c'è Eleonora, lasciale Eleonora, io quella torta l'ho fatta con tanto amore Perché c'è dentro la torta, la stà No, ma che aspetta, no Lascia È il torta Ma per che? Ma che mi ricorda, Eleonora? Il mio canale Mi ha fatto la mia bocca E gliela voglio togliere Io non c'è di cazzo Mi sono troppo divertente Mi è morto Sara Sara, sono da fa Che ha? Ehm... Bye! Happy birthday guys! Eh, mi sono scordata! Bye! C'è Claire! Bye! Dai, vai! Happy birthday! Happy birthday! Dai, posso dire che sono al gusto? Posso? Dai, come rimo? Non caga nessuno! Dai! Happy birthday! Vai! Questa cosa è stata anche ripresa! E' già la seconda volta che l'ha spiegata! E' in un video! Tipo... 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 Vai! Vai! Ma si sente la prossima volta! Se vuoi puoi toglierla, se ti senti psicologicamente pronta! No, no! Perché vi deve inquadrare con te? Cosa si sconderà dietro? Questo giornale! Mi sta beccando la fine! E dai, ma perché? Ma sono... Ma sono di una sofferenza totale! Lei c'è appena operata, per favore! Guardate i suoi occhi! Sofferenti! Lei ride, è stronta! Ah! Bene! Dopo... Un minuto puoi fare i tuoi auguri! Non è tu! Vai! Aspetta! Ma che cazzo? No, io non lo dico davanti a lei! Vatti! Andiamo da quattro parte, per favore! Mi facciano! Vatti! Vatti! Vai in bagno! Vai in bagno! No! Sì! Il bagno! L'ho trottatoio! Ho la capra di suicidio quella di... Ok, basta! No! No! Non sei questo! Non sei questo! È divertente! Aspetta! Sìa! Qui devo prendere tutti, sa che è già fatto! Ah! Ah! Ok! Arenvi fa...